Sono stati dei primi giorni impegnativi con vento forte e onda, queste qua sono le mie mani e il risultato di questi primi giorni. Abbiamo dovuto fare tantissime strambate, quindi tantissimo stacking di materiale da una parte all'altra della barca. Non è come la prima tappa dove abbiamo poche cose a bordo, la tappa è lunga, saranno 21 giorni di navigazione, abbiamo forse di cibo da spostare e un sacco di stacking. Quindi è stato impegnativo, con poco tempo per riposare, però penso che sia valsa la pena perché siamo nella lotta e sono state comunque condizioni incredibili con vento forte, onde, quindi bello, bello, alla grande.